Da Ancona alla conquista dell'Europa, l'AMPIS, associazione nazionale polisportive per l'integrazione sociale, si dà appuntamento in Spagna, paese nel quale a novembre sarà sottoscritto lo statuto della nuova associazione di respiro europeo, alla quale aderiranno da subito Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Belgio. E' quanto è stato deciso nell'ultimo direttivo dell'AMPIS al quale hanno partecipato anche delegazioni straniere che si è tenuto a Carovigno nel Brindisino durante il Sottosopra 2010, decimo appuntamento nazionale che ha radunato in Puglia oltre 1200 partecipanti, di cui circa un centinaio dalle marche, tra operatori e assistiti per una settimana di gare sportive e di socializzazione, lo scopo affrontare attraverso lo sport i problemi del disagio mentale e sociale. Si chiamerà dunque AEPIS, associazione europea polisportive per l'integrazione sociale, e l'inglese Colin Godfrey sarà il nuovo presidente, mentre il francese Dominique Laurent è stato proposto come vice. Un progetto fortemente voluto dal presidente nazionale dell'AMPIS, l'Anconetano Doc Roberto Grelloni, che proprio dieci anni fa partì dal capoluogo d'Orico per mettere in rete polisportive, associazioni cooperative e dipartimenti di salute mentale da tutta Italia per promuovere l'integrazione sociale e vincere lo stigma, l'emarginazione e per la solidarietà, tenendo sempre a mente il metodo innovativo proposto da Franco Basaglia a 30 anni dalla legge 180 che sancì la chiusura dei manicomi in Italia. Una rete dunque che ora diventa europea con una certezza, lo sport rende uguali, anzi tutti speciali.